Si lavora lacrimente a Toro del Grifo per mettere su una squadra competitiva in grado di primeggiare nel prossimo campionato di terza serie. Oggi l'ufficializzazione dei nuovi ruoli all'interno dell'organigramma societario. L'Omonaco ha affidato la direzione sportiva a Cristian Argurio e si tratta di un ritorno, mentre Mario Marino sarà il coordinatore dell'area tecnica. Ad Alessandro Feille invece ha affidato l'incarico di responsabile del settore giovanile rossazzurro. Lasciano invece la sede sociale di Via Magenta, Marcello Pitino e Fabrizio Ferrigno. Il prossimo passo sarà adesso la scelta dell'allenatore. I nomi che girano sono sempre gli stessi e in pole position resta Gautieri, ma una valida alternativa sarebbe rappresentata da Auteri. L'allenatore che ha recentemente condotto il Benevento per la prima volta in cadetteria, ma l'Omonaco sta valutando anche la squadra. Tre eventuali conferme è la scelta invece di chi dovrà cambiare aria. Il direttore generale è particolarmente impegnato anche in campo finanziario. In combono delle scadenze, tra cui il pagamento delle aspettanze ai calciatori per la passata stagione, da osservare entro il prossimo 24 giugno. Insomma, la situazione è in continua evoluzione e dopo la notizianza diffusa qualche giorno fa, non si sono aggiunti altri particolari sull'eventuale interessamento di Vergara. Grazie a tutti. Grazie a tutti